Il Signore Sio, il Signore Sio, il Dio Spirito, il Deo Spiriti, è il Dio Spirito, e il Deo Spirito. O Dio, direi che ragione, che non sono niente uomini, l'altro non è giusto per tutti, e neppure con questo punto di gara. Digiuno due volte alla settimana e poi vorrei leggere tutto quello che possiamo leggere. Allo punto di gara mi piace per loro a fare la stanza. Non lo stava nemmeno alzando il proprio cielo, ma si faceva il pezzo del cielo. O Dio, fai un piccolo numero per noi. Dio, Dio, questo è il Presidente dell'Antonio, con il nostro percorso di gara, e io, il Presidente dell'Antonio, e io, il Presidente dell'Antonio, e io, il Presidente dell'Antonio, parola del Signore, gloria a te, per Cristo.